I giochi del Mediterraneo on the beach 2015 si faranno. Si è inizio mandato l'amministrazione comunale, aveva subito messo le mani avanti sul buon esito della manifestazione. A causa della ingente spesa prevista 4 milioni di euro, oggi nelle stanze del comune di Pescara si sono riuniti i massimi vertici della manifestazione. È stata la prima di una lunga serie di incontri che dovranno portare alla pianificazione dell'evento previsto per l'ultima settimana di agosto. Oggi si è iniziato un percorso con questa prima riunione operativa del comitato organizzativo. Noi abbiamo definito in passato la questione certamente non trascurabile della copertura economico-finanziaria, visto che i giochi che abbiamo ereditato non l'avevano. La copertura economica è garantita in parte da Regione Abruzzo, che contribuisce con un milione e mezzo di euro. Poi c'è una somma analoga che viene fornita dal CONI. Poi siamo in avanzata trattativa con il Governo centrale per ottenere un ulteriore milione di euro e questa rappresenta la base minima su cui partire. Siamo naturalmente alla ricerca di contribuzioni di sponsor privati e la pubblica amministrazione dovrà mettere servizi e logistica per garantire il pieno e funzionale svolgimento dei giochi. Si parla di una manifestazione a vocazione internazionale di grande pregio. Questa è ovviamente un'occasione anche turistica perché lo sport costituisce un volano per il cosiddetto marketing territoriale. Quindi l'attesa naturalmente non è solo limitata alle delegazioni e agli atleti, che pure ovviamente dovranno risiedere qui nel periodo dei giochi, ma anche estendere l'offerta anche a quanti sono appassionati di sport. Infine ricorda l'ex sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, la manifestazione che si terrà è il risultato di un grande impegno della sua amministrazione. Se i beach games si svolgeranno per la prima volta nella storia Pescara, va ricordato che Pescara si è aggiudicata a quel titolo soffiandolo letteralmente alla seconda classificata, e cioè Marsiglia, uno scarto di cinque punti che la città adriatica si è guadagnata grazie alle sue spiagge, caratteristiche che la città francese non aveva, e cioè almeno 14 chilometri di costa e una profondità capace di ospitare atleti e entourage. Secondo la pianificazione di Mascia, 3 milioni di euro sarebbero stati garantiti dall'ex governatore Gianni Chiodi e altri tre dal CONI. A parte poi sponsor di caratura internazionale e tutto l'indotto che tale manifestazione avrebbe portato all'Abruzzo.